signori signori stiamo cercando un'altra sposa la stiamo cercando la troviamo la troviamo è già impegnatissima la prendo la prendo la prendo la prendo la prendo eccola qua l'ho presa eccola abbiamo trovato un'altra sposa ciao come ti chiami Elisa Elisa da dove vieni Valdagno Vicenza Valdagno Vicenza sai che noi per Vicenza abbiamo un debole vedrai dopo te ne accorgerai sono simpatici queste sono le amiche allora vai in mezzo all'amica vai in mezzo all'amica così le inquadriamo tutte un brindisi per la sposa ragazze tutte vicentine che detto Valdagnesi Valdagnesi che diverso perché una Valdagnese da cosa si distingue da una Vicentina sono tanti bar a Valdagno bianco rosso facciamo pubblicità al bar bianco rosso che ha delle quote azionari e la ragazza anche 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 voi fatemi le Valdagnesi da una certa ora fatemi le Valdagnesi grandissima cosa hai detto reggi tantissimo eh sì noi sì tanta roba tanta roba e tu reggi anche il tuo futuro sposo spero di sì abbiamo sempre questi messicani che si aggirano così quello è Mario eh c'è proprio dell'affiatamento vogliono tutti bene Valdagno anche loro secondo me frequentano dei bar a Valdagno si socializza si socializza vai un brindisi per la sposa tutti insieme per le Valdagnesi per le Valdagnesi i pipa i pipa i pipa vai Valdagno a